La ricerca a costo uniforme, la Uniform Cost Search, è una generalizzazione della ricerca in ampiezza. Si va cioè a espandere il nodo di costo minore sulla frontiera. Che significa? Beh, innanzitutto dobbiamo supporre che gli archi siano etichettati, etichettati con un costo, con un numero, un valore, che rappresenta il costo di quella mossa. Nel caso, per esempio, della ricerca in ambito stradale, gli archi erano etichettati con la lunghezza in chilometri della strada. Quindi, prendendo la lunghezza della strada come costo della mossa di Moversi da quella città alla città successiva, essendo quindi questo il costo della singola mossa, non essendo questo costo uniforme per tutte le mosse, noi possiamo utilizzarlo all'interno della strategia, ordinando i nodi sulla frontiera, non in base ai criteri in coda, quelli appena generati, o in testa, quelli appena generati, che rispettivamente generebbero una bread first, una death first o una death first, ma ordiniamo i nodi sulla frontiera in base al costo necessario per poter raggiungere quello stato a partire dallo stato iniziale. Quindi, per esempio, supponendo che S sia lo stato iniziale, da S si toglie dalla frontiera e si generano i figli, che hanno un costo 1, 5 e 15, cioè il costo di andare da S ad A è 1, 5, da S a B è 5, da S a C è 15, allora cosa significa? Che i nodi sulla frontiera, S non c'è più, sono ordinati in questa maniera, A, B, C. Allora si espande A, perché è quello che ha costo minore, si genera G che è 11, A non sarà più sulla frontiera, G, invece che viene a essere inserito in testa, cioè realizzato dal first o in coda, realizzato dal best first, viene inserito fra B e C. Quindi il prossimo essere espanso sarà, perché 11 è compreso fra 5 e 15, il prossimo essere espanso sarà B, che genera un figlio 10, questo figlio 10 viene messo in testa, perché 10 è minore di 11, quindi il successivo essere espanso sarà B, G e così via. Allora, quindi in pratica UCS, altro non è che una specie di bread first, cioè se tutte le, data l'UCS, se tutte le mosse avessero costo uniforme, in pratica l'UCS diventa una bread first. E quindi l'UCS è un punto di meravigliamento che, da punto di vista delle proprietà, si adagi sopra la bread first, cioè per quanto riguarda l'ottimalità e la completezza, va bene, esattamente come la bread first, a patto che il costo degli archi sia maggiore di zero. Perché se non fosse così, io non posso essere sicuro del fatto che, espandendo il nodo che in quel momento sembra quello a costo minore, sicuramente andremo su quella strada a trovare la soluzione ottimale. Cioè, se per esempio torniamo al caso stradale, e invece che il costo, il numero di chilometri, prendessimo il costo del consumo di benzina, ad esempio, e quindi io dovessi tenere in considerazione anche altri fattori che non sono indicati e quindi potrei avere addirittura un guadagno, per esempio, perché passando su una certa strada io magari potrei avere un bonus benzina, cose di questo genere, è chiaro che l'aver scelto il percorso di spandere il nodo che in quel momento si trovava in testa la lista perché era quello che appariva il più conveniente, se successivamente a un altro che io non avevo scelto c'era invece un arco, un costo negativo, beh, sarebbe stato conveniente prendere l'altro, ma io non lo sapevo e quindi si perderebbe l'ottimalità qualora il costo degli archi possa essere negativo. Per quanto invece riguarda la complessità nel tempo e nello spazio non abbiamo nessun vantaggio perché abbiamo sempre una complessità esponenziale, l'unica cosa è che qui magari possiamo fare un pochetto una stima su quella che è la soluzione ottima, cioè l'esponente, perché potremmo considerando il costo medio di un arco abbiamo che questa approssimazione all'intero, dato questo quotiente, l'approssimazione all'intero inferiore del costo della soluzione ottima diviso il costo medio di un arco ci dà quella che potrebbe essere mediamente la profondità della soluzione ottima ma sostanzialmente il problema rimane un problema esponenziale. Facciamo un esempio, un confronto fra bread for search e un uniforme costo proprio nel caso dell'attrante stradale. Partiamo da Arad e dobbiamo espandere Arad quindi potremmo andare in queste tre città e se non consideriamo la distanza la prima sarà la successiva che sarà espansa sarà Zerind cosa che sarà vero anche se consideriamo la distanza perché effettivamente la distanza corrisponde casualmente a questa scelta quindi espandiamo Zerind che quindi non sarà più sulla frontiera aggiungiamo Arad e Oradea nel caso della bread for search supponendo che non abbiamo fatto il controllo su cicli ancora e quindi c'è Arad nella frontiera stessa cosa per Zerind per l'uniforme costo search qui a questo punto cosa succede? Succede che Arad già adesso si vede che avrebbe un costo alto per cui sarebbe messo in coda perché Arad avrebbe un costo di 75 più 75 150 e quindi come vedete avrebbe messo in coda ai nodi sulla frontiera questo lascia quasi pensare che con la uniforme costo potrebbe anche non essere necessario fare il controllo sui cicli perché il ciclo sostanzialmente sarebbe più costoso un percorso più costoso appunto perché viene effettuato il ciclo e quindi potrebbe essere forse anche inutile andare a fare l'eliminazione dei percorsi ciclici infatti andiamo a espandere il secondo nodo che sta sulla frontiera che è Sibiu nel caso della Bread First e abbiamo quell'aggiunta di questi nodi qui ancora abbiamo fatto l'ipotesi che non abbiamo tolto fatto il controllo sui nodi visitati se andiamo invece a espandere il successivo nodo dopo aver fatto la prima mossa nel caso dell'uniforme cost search il successivo nodo a essere espanso sarà Timi Shohara perché aveva 118 mentre Sibiu aveva 140 Orade aveva 75 più 71 quindi 146 e Arad aveva 150 quindi quello successivo da espandere è Timi Shohara con 118 si espande e si trova di nuovo Arad che però sarà 118 più 118 quindi 236 e invece Lugoi sarebbe a distanza 118 più 111 quindi fa 129 e quindi il successivo nodo a essere espanso sarebbe Sibiu e così via in realtà la cost search non è che non non ci fa fare cicli ce li potrebbe anche far tentare perché qui vedete che rimane un Arad a 150 che potrebbe essere selezionato dopo Radea nella prossima nella prossima espansione esatto perché la prossima espansione sarà sicuramente Radea quindi molto probabilmente dopo Radea verrebbe espansio questo nodo Arad quindi anche con Uniform Cost Search sarebbe opportuno fare un controllo cicli bene adesso vediamo la la Dep First la Dep Limited e la Iterated Dep Limited che sono ovviamente collegate cos'è la Dep Limited sostanzialmente cerca la Dep Limited di rimuovere il problema legato all'eventuale ingresso in rami infiniti dovuto al fatto che ci stiamo muovendo in spazio di ricerca che contengono un numero infinito di stati potremmo beccare con la Dep First un rame infinito e quindi non trovare mai la soluzione e quindi perdere la completenza con la Dep Limited semplicemente l'idea è quella di andare in profondità va bene ma fino a un certo livello predefinito L che si suppone essere maggiore del livello di profondità a cui si trova la soluzione ottima quindi questo presupporrebbe che noi sappiamo conosciamo il livello di profondità della soluzione ottima e in questo caso effettivamente ma solo in questo caso la Dep Limited restituirebbe la completezza della Dep First Search nel caso ovviamente sempre di spazi infiniti comunque sia anche in questo caso permane la non ottimale perché la soluzione ottima potrebbe stare a una certa profondità noi ci mettiamo a un livello di profondità L in limite maggiore se L fosse esattamente D allora la soluzione che troviamo sarà una soluzione ottimale dove D è la profondità della soluzione ottimale però dovremmo conoscere questo D se poco poco ci mettiamo a D più 1 noi potremmo trovare una soluzione a profondità D più 1 che non è la soluzione ottimale per quanto invece riguarda la complessità nello spazio abbiamo lo stesso risultato che avevamo prima qui abbiamo invece anche il guadagno della complessità nel tempo perché no scusa non c'è neanche la complessità nel tempo perché comunque rimane complessità esponenziale il vantaggio quindi di tipo infiniti evita di entrare in cicli infiniti e da notare che effettivamente evita anche loop infiniti perché con la depth limited possiamo evitare di tenere la lista dei visitati in quanto che comunque sia a un certo livello di profondità e chiaramente il ciclo ha fomentato di profondità la ricerca si terminerebbe per cui non si entrerebbe in un loop infinito comunque si sprecherebbe tempo ma non si entrerebbe in un loop infinito per contro richiede una conoscenza priori del problema e cioè richiede sostanzialmente di sapere a quale profondità si trova la soluzione ottima non l'ho forse sottolineato a sufficienza il grosso vantaggio appunto di avere una complessità nella memoria lineare legato al fatto che la depth first e anche la depth limited mantengono sostanzialmente solo un percorso in memoria il percorso corrente che si sta espandendo gli altri non vengono tenuti in memoria cosa che a differenza di quello che accade nella bread first se vogliamo fare un altro esempio è un esempio di qui abbiamo il gioco dell'ernepuzzle fermato a una profondità 5 cioè alla quinta al quinto salto di profondità e fortunatamente il goal si trovava a una profondità adesso non so se era la soluzione ottimale qui l'esempio appena trova il goal termina in questo grafo non so se c'era un goal a profondità minore però ecco l'esempio illustra il funzionamento della depth limited il problema della depth limited è che richiede la conoscenza a priori della profondità della soluzione ottima se non la conosciamo se non la conosciamo andiamo a illustrare l'ultima la quinta strategia la high trade di princettia potrebbe considerarsi la strategia migliore il compromesso migliore perché ha il vantaggio della depth first search ma recupera la completezza utilizzando il concetto del taglio della profondità semplicemente che cosa fa a differenza della precedente va per tentativi prima considera una profondità zero cioè considera se il nodo di radice è già il nodo goal poi profondità uno quindi va a vedere tutti i figli nella radice poi profondità due va a vedere tutti i nipoti però li fa attenzione non emula una breadth first però non tiene in memoria tutti i nipoti cioè ogni volta rigenera l'albero scandendolo in modalità depth first quindi in pratica è una specie di emulazione della ricerca in ampiezza però la depth first cioè si parte dalla radice si applica la depth first con limite uno e se si trova la soluzione si termina altrimenti si incrementa uno e si va a ricercare la soluzione se non la si trova si incrementa di uno la profondità e si va a ricercare la soluzione e così via così facendo ovviamente si rigenerano sempre i stessi nodi però nei problemi come molti che si presentano in casi reali in cui la complessità cresce con la profondità nel senso che la complessità delle mosse più profonde sono quelle più costose rifare le mosse iniziali non è non rappresenta un grande aggravio facciamo un esempio partiamo ad esempio da questo da questo nodo iniziale che sarebbe il nodo di partenza nella ricerca dello spazio degli stati il limite è zero quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è esplorare questo nodo solo questo nodo vedere se il nodo golla supponiamo che non lo sia e a questo punto andiamo al limite 1 e cioè ripartiamo dal nodo radice e vediamo se il nodo golla non lo è quindi generiamo i suoi due figli e generati i due figli sono messi i due figli nella frontiera e quindi cominciano ad essere spazi prima si prende quello che sta in testa quello più a sinistra non è il nodo gollo e poi quello più a destra non è il nodo gollo ok quindi a profondità 1 non abbiamo trovato la soluzione allora si va a profondità 2 profondità 2 vuol dire che si riparte di nuovo dalla radice si va a vedere i figli si prende il figlio più a sinistra e lo si espande poi si va a vedere se il figlio più a sinistra è il gol non lo è poi si va a vedere il figlio più a destra non lo è a questo punto abbiamo chiuso anche con il papà abbiamo esplorato totalmente quindi si va a esplorare l'altro nodo figlio del nodo radice C si generano i due figli si va a prendere il figlio di sinistra poi il figlio di destra la soluzione non l'abbiamo trovata andiamo avanti all'interazione 3 si rifà tutto 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 da capo e a questo punto però arrivati a questa iterazione m era il nodo goal e lo troviamo e quindi la computazione termina quindi in pratica la i3d print search la soluzione ottimale la trova perché in pratica sta emulando una breadth first search semplicemente che però al costo di rigenerare ogni volta tutto l'albero si ha il vantaggio dell'occupazione di memoria che continua a essere un'occupazione lineare quindi abbiamo che l'AIDS rappresenta il miglior compromesso fra le 5 strategie che abbiamo appena visto perché pur rimanendo una complessità esponenziale nel tempo e questo è sostanzialmente il motivo per cui poi andremo nel successivo modo didattico di esaminare le strategie informate e cioè perché rimane una complessità esponenziale nel tempo manteniamo una complessità lineare per quanto riguarda l'occupazione di memoria garantendo comunque il ritrovamento della soluzione ottimale quindi concludendo l'esame di queste 5 strategie abbiamo questo specchietto che riassume un po' le proprietà qui adesso è saltata la formattazione questo simbolo qui sarebbe il simbolo del bottom cioè dell'approssimazione all'intero inferiore vedete che abbiamo che la ITRESY ottimale nell'ipotesi che gli operatori hanno tutti lo stesso costo cioè le mosse abbiano tutte lo stesso costo ed è completa sicuramente questa è completa con certezza e come la DEVFIRST ha un'occupazione di spazio che è lineare nella profondità non della ricerca della soluzione a profondità massima ma della soluzione a profondità ottimale quindi rappresenterebbe per quanto riguarda l'occupazione di memoria è anche un vantaggio banale non significativo in effetti però rispetto addirittura alla DEVFIRST